Sono in questo diavolo di castello da troppo tempo e non riesco ad uscire, basta, sono stufo, adesso questo stupido castello di Sonic lo distruggo Oh mio Dio, no no, questo è Sonic, questo è palesemente Sonic, no 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 no, è fortissimo, è fortissimo Allora io ti farò uccidere così, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, ti prego, no 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 Ma si è trasformato in Angry Sonic, cioè Sonic arrabbiato significa in inglese Ed è enorme, perché è 20 volte più grande, oh no, oh no, oh no, questo qua picchia brutto, picchia tanto forte No no no, Sonic ti prego, vai via, il bello è che ha 700 di vita, tipo, e tipo se io gli do un pugno si toglie uno alla volta Tipo quindi 699, oh mio Dio, ok, scappiamo, via, è l'unica cosa che possiamo fare ora, no, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Cos'è questa roba? Stanza della roccia, cosa vuol dire? No, non voglio sapere perché Stanza della guerra, vediamo qua Oddio, oddio, sì sì sì, questa è un'armatura, è un'armatura, vediamo Oh, a parte non mi si vede più però, oh, corro pure super veloce Ok, lui è lì fuori, palesemente Vediamo un attimo cosa si nasconde qua, un sacco di cibo, e questa è la super spada cazzuta Sword, oh mio Dio, 40 di attack damage fa, è una spada normale in ferro, mi pare che ne facesse tipo No, tipo 7, mi pare, se non mi sbaglio Quindi è fortissima, oh mio Dio, la voglio trovare, adesso, adesso, madonna, vado lì e l'uccido Porca di quella mi si ghiaccia Allora, Sonic, oddio, Sonic, vieni qua, hai capito? Io sono più potente Dov'è finito? Ehi? Sonic? Sei qui? Sei ritornato al tuo posto? Perché c'è del sangue che vola? Non, tutto ciò è veramente strano Sonic? Aha, sei qui eh? Allora, brutto schifoso che non sei altro Vediamo adesso cosa mi fai, e beh, mi fai ancora tanto, però, anch'io ti faccio tanto, porca miseria Ti faccio 40 di attack damage Ah, ti uccido, madonna mia Oh no, sto per morire, sto per morire, ok, no Sonic, vedremo, chi vincerà? Hai fatto male a lasciare lì tutte le tue cose, adesso me ne scappo immediatamente da questo castello schifoso Ok, um, beh, posso sicuramente, no, 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 non posso prendere fuoco, non posso, no, ti prego Wow, sono veramente un genio comunque Beh, però solo, vedete, sono finito fuori come potevate ben immaginare Perché era tutto pianificato tutto ciò, ovviamente E vediamo un attimo Aha, e ora niente e nessuno potrà fermarmi dall'andarmene da questo castello schifoso Perché io ho vissuto qua per un sacco di tempo e sono stato intrappolato in questo castello E adesso sono libero Oh, e lasciate like per favore Oh, e lasciate like per favore Grazie a tutti.